la cittura di un sembra in seguito alla skeleton cap mi vado per il rilascio vediamo se ci riesco ecco, lo vedete? in corrente sto libero, eh? sto libero, vai! la cittura di un prog euros maggiore di un prog cittura di un prog per il per il rilascio Grazie a tutti.